Sono tanti anni ormai che io e Paolo lavoriamo insieme, abbiamo portato avanti le nostre battaglie, ci siamo divertiti, abbiamo discusso, ma ci siamo sempre rispettati e voluti bene, da amici veri, è da qualche giorno però che comincio a sentire qualcosa di diverso, prima o poi capirò di cosa si tratta e ne parlerò con Paolo, il quale da buon amico spero sarà disposto ad ascoltare i miei pensieri più profondi.